Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. La sua scomparsa, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della musica e dello spettacolo. Il suo decesso è avvenuto martedì, dopo essere stata ricoverata in seguito a un incidente avvenuto domenica. Il trio del Volo, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Piero Barone, che la consideravano un angelo custode, ha annunciato la sua scomparsa, esprimendo il loro immenso dolore. Sul loro profilo ufficiale, il Volo ha comunicato la triste notizia, descrivendo il grande vuoto lasciato dalla sua prematura morte. Era molto amata non solo dagli artisti, ma anche da tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei. Ricoverata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, non è riuscita a superare le gravi conseguenze dell'incidente. In un comunicato congiunto, il Volo, Michele Torpedine e gli altri collaboratori della MT Opera & Blues Management hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza a tutti coloro che le volevano bene. La nota si conclude con un messaggio di solidarietà, abbracciando simbolicamente tutti coloro che continueranno a ricordarla con affetto nel loro cuore. Parliamo di Barbara Vitali e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.